Lentini, spazio di droga nel Catanese, 24 anni in cella al carcere di Brucoli. I carabinieri della stazione di Lentini hanno arrestato un 24 anni nel luogo in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania. L'uomo, già agli arresti domiciliari per la medesima causa, dovrà espiare la pena residua di 5 anni e 4 mesi di recusione per violazione della normativa sugli stupefacenti commessa a Catania nel 2018. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla casa di reclusione di Brucoli come disposto dall'autorità giudiziaria.